Gli anziani ospiti della struttura, alcuni molto in avanti con l'età, venivano maltrattati in ogni modo, cioè subivano veramente gravi vessazioni, ingiurie, subivano violenze di ogni genere e grazie alla nostra attività è stato permesso di appurare che effettivamente coloro che dovevano assistere, gli anziani, i nostri anziani invece non si curavano affatto di loro, tutt'altro non perdevano occasione per poterli ingiuriare e maltrattare. Grazie a tutti.